Siamo a bordo alle 246, io sono Federico Martini, l'importatore in Europa di queste imbarcazioni prodotte in Pulsia, su design italiano, e vogliamo approfittare per far vedere alcune delle features che a bordo di questa barca rendono una barca performante, anche una barca molto comoda per la pista. Due esempi sono per esempio il tavolo a carteggio, che può essere un reale tavolo a carteggio, ma diventare anche una comoda seduta che potrebbe trasformare la ginessa, non solo con le pezze più tradizionali, ma addirittura con una ginessa che consente di far sedere in un giro più difficilmente superiore che si aspettano a quello di fare. Aiutati con il sito, per fare la mangiare, per fare la barca, per fare la mangiare, per fare soluzione che troviamo, è nella cabina dell'armatore, unica e molto divertente, meritevole forze di qualche iodo, di soluzione superiore, l'armatrice non ha solamente una cabina dove va a dormire, ma ha una vera cabina con grandi spazi di storage, ha una piccola seduta che può essere molto comoda durante l'uso quotidiano per cambiarsi e peggiore le cose, ma siamo riusciti anche a ricavargli un piccolo vanity, una cosa abbastanza unica su una barca di queste dimensioni. Questo piano può scivolare, la signora si può sedere qui comodamente, apre questo spazio con lo specchio e ha a disposizione anche quanti i suoi trucchi, le cose da make-up e le cose che gli possono servire. Ecco, sono piccole soluzioni come queste che in realtà consentono in spazi ridotti di riuscire a dare alle comodità che di solito trovano a bordo di disimbarcazioni più grandi.